Sì, stai vigilando la macchina. Un corpo è stato trovato a distanza di 5 chilometri dal punto dell'alluvione, quindi noi abbiamo anche contattato la Capitina di Porto per fare delle ricerche anche in corrispondenza della foce, perché chiaramente abbiamo il timore che alcune persone siano finite a mare per la furia delle acque. Grazie a tutti. Grazie a tutti.